giuseppe argirò firma la regia di centomila uno nessuno sì diciamo che a parte la regia è un po l'operazione legata alla scrittura soprattutto che è determinante in questo caso perché la scrittura che poi determina l'allestimento e anche la regia dello spettacolo per cui parto essenzialmente appunto alla scrittura di questo testo che mette insieme tutta una serie di elementi editi e inediti di pirandello partendo soprattutto la prima parte della sua vita quindi la nascita rapporto col padre un padre dittatoriale dispotico e poi tutto il suo rapporto con l'aspetto più misterico più profano più arcaico più arcano più magico che è legato ad esempio la rapporto con la governante di casa pirandello cioè maria stella e poi l'istitutore poi via via il rapporto con la madre poi ovviamente il rapporto con la moglie tutta una serie di elementi senza tralasciare anche gli episodi più divertenti diciamo ma che poi diventano prodotto di scrittura nella letteratura pirandelliana ovvero sia il rapporto con l'incontro con questo professore universitario a roma che lo costringerà ad esempio lasciare l'università e andare poi a bon dove incontrerà la sua fidanzata di cui parlerà moltissimo soprattutto nelle sue raccolte poetiche ecco nemmeno queste tralasciato e ci saranno anche i momenti legati sia alla vicenda romana e sia invece appunto a quello che accadrà in germania no tutto molto più lieve perché lì pirandello e studente universitario passando attraverso ovviamente le sue opere quindi tutti molti dei monologhi più importanti non tutti ovviamente perché in un'ora e venti abbiamo dovuto condensare una sintesi per poi parlare anche però di quello che ci sta più a cuore che rende pirandello estremamente moderna e contemporanea cioè il problema della comunicabilità e della comunicazione cioè cosa amiamo fare noi amiamo cercare di farci conoscere ovviamente no e lo facciamo attraverso le parole attraverso gli strumenti del verbale non verbale che abbiamo a disposizione però poi purtroppo incappiamo nell'equivoco nel fatto che tutto è assolutamente relativo e quindi la percezione che hanno gli altri di noi non è esattamente quello che noi vorremmo trasmettere ecco questo è il portato della modernità di pirandello e in questo testo è assolutamente presente attore cinema televisione ma soprattutto me lo lasci dire teatro sì sì assolutamente sì e siamo qua con questo spettacolo nuovo spettacolo su pirandello su rigi pirandello e noi avevamo fatto con argiro che ha curato la drammaturgia anche la regia avevamo fatto un altro spettacolo su leopardi molto simile cioè tutto incentrato su person su me solo che quello di leopardi era tutto a leggio questo qui invece è molto più complesso è uno spettacolo vero e proprio perché io poi mi stacco da leggio per tre quattro volte con i grandi pezzi di pirandello grandi monologhi di pirandello uno è quello non si sa come il famoso monologo della lucertola poi c'è quello il padre diciamo tutto il condensato del padre nei sei personaggi e l'uomo dal fior in bocca e poi si finisce con cotrone che è il gigante della montagna insomma con i versi di cotrone molto belli molto affascinanti e quindi è abbastanza complesso diciamo anche proprio come approccio di studio è stato faticosino come spettacolo però mi pare che l'esito sia andato molto bene e questo è uno spettacolo ovviamente molto agile che io posso infilare tante possibilità ma mentre magari faccio tournée con un altro spettacolo lo possiamo tenere infatti infinito Giacomo lo abbiamo tenuto per cinque anni che lo facciamo e possiamo anche continuare a farlo perché è sempre attualissimo ovviamente anche quello ecco quindi qui cosa vedrete in questo spettacolo si scoprirà un po' forse certe cose che il pubblico non conosce di pirandello certi momenti della sua vita la sua infanzia dominata da questa Maria Stella questa cammarera di casa pirandello perché il padre era un po' sempre assente la madre anche lei così un po' disattenta all'educazione del figlio lui si è trovato un po' solo e c'era questa cammarera che gli ha dato un po' l'input della vita anche così parlandogli di favole siciliane di mondi un po' arcani queste le femmine che che scambiano i bambini nella culla eccetera e gli ha anche dato i rudimenti un po' esempio anche del rapporto sessuale perché l'ha avuto proprio da lei dalla cammarera poi il rapporto col padre molto contrastato il padre era un eroe garibaldino che ha partecipato alla presa di palermo al volturno alla diverse battaglie un garibaldi un uomo forte collerico molto prepotente lui invece era contrario no? gracidino debole quindi questo contrasto col padre anche molto viene veniamo a scoprirlo più in piano nello spettacolo poi i suoi fidanzamenti iniziali poi il suo trasferimento in Germania la scoperta di un altro mondo poi ritorno a Roma eccetera e poi soprattutto questo rapporto dilaniato e dilaniante con la moglie Antonietta Portulano che è un matrimonio di convenienza lo dice anche lui perché era senza soldi disperato aveva bisogno di piazzarsi e lei portava una grande rendita una solfare eccetera poi però la solfare viene invasi dall'acqua e succede che perdono tutto tutti i soldi ma soprattutto la Portulano impazzisce pian piano scende in una inclinare di follia che la porterà al manicomio e in questo periodo fra l'inizio della malattia e l'entrata in manicomio c'è Pirandello che vive delle situazioni veramente strazianti, alienanti che contribuiscono sicuramente anche forse in senso positivo alla sua scrittura perché poi sfogano attraverso la scrittura quello che lui sente dentro però chiaramente Pirandello è una figura molto ambigua non è un uomo tutto di un pezzo chiaro, preciso di come si propone nella vita lo vediamo, vediamo dei chiaroscuri, continui e questo è anche affascinante perché dimostra la complessità della vita umana che poi lui ha messo dentro lo sappiamo tutti nei suoi ragionamenti, nelle sue cose ci sono pezzi anche del Enrico IV sulla follia che si ricongiunge a quella della moglie perché poi qualunque cosa lui ha scritto è sempre legata un po' alla sua vita anche a un certo punto io parto con il racconto della lucertola quella del non si sa come sotto la luna e di questo ragazzo che torna da scuola, va in campagna poi vede un altro ragazzo che sta per prendere una lucertola questo ragazzo l'ammazza in modo brutale lui si arrabbia e incomincia una collutazione alla fine lui prende una pietra, la scaglia e questo ragazzo finisce con la testa sfracellata però lui non si sente in colpa è come se si immobilizzasse il tempo ecco, questo noi lo facciamo entrare questo monologo proprio dopo il rapporto che ha con Maria Stella che gli racconta di queste favole che si confondono la realtà con la fantasia e lui pian piano entra in questo discorso notturno chiaramente noi sappiamo invece che nel non si sa come il personaggio principale racconta questo episodio della sua vita nell'infanzia per giustificare un po' con sé e verso gli altri il fatto che poi va a letto con la donna del suo miglior amico ha questo momento di follia e quella notte succede questa cosa allora per giustificare dice così anche quella volta io non mi sentivo assassino perché era come tutto sospeso come in un sogno poi c'è anche lì il pezzo del sei personaggi dopo anche quello legato un po' anche lì al padre lui scopre questa relazione del padre con una cugina rimane sconcertato perché li segue e poi vede questi due che si scambiano il cibo in bocca questa complicità tremenda lui alla fine sputa in faccia alla cugina e da lì poi il padre per rimediare siccome è incinta questa cugina deve trovare una persona che si occupi del bambino e sistemare la situazione familiare e lì parte la cosa del padre dei sei personaggi quindi c'è questo legame e così poi anche nell'Uomo le fiori in bocca quindi poi comunque tutto su tutto viaggia anche una certa ironia un certo distacco perché quello è sempre importante tenere sempre un po' a distanza la tragedia vederla sempre con un'ottica ironica e noi in questo viaggio lasciamo entrare il pubblico che verrà a vederla qui al Teatro dell'Angelo la ringraziamo è stato bellissimo seguirla e penso sia ancora più bello venire a vedere lo spettacolo sicuramente, sicuramente penso di sì quindi venite tutti mi raccomando noi stiamo qua fino alla prossima settimana facciamo 15, 16, 17 venerdì, sabato e domenica oggi è domenica e faremo anche gli altri tre giorni nella prossima settimana un tour che continuerà anche in Sicilia sì, nella terra di Pirandello non potevamo non andare nella terra di Pirandello questa è veramente la prima nazionale dopodiché avremo altre date che sono date estive soprattutto in Sicilia e quindi esattamente saremo il 23 a Segesta all'Alba quindi è uno scenario assolutamente magico faremo l'Alba a Segesta poi saremo a Tindari e in altre località del sud Italia e poi l'anno prossimo riprenderemo lo spettacolo e saremo addirittura al Manzone di Milano il 28 novembre più altre date che via via vedremo probabilmente lo riprenderemo anche a Roma dopo l'operazione dell'Infinito Giacomo che noi perseguiamo ormai da quattro anni un'operazione simile ma anche diversa proprio perché Leopardi in fondo è un poeta a parte l'avventura delle operette morali che possono in parte ascriversi anche che ha una dinamica teatrale sicuramente Pirandello era un passaggio appunto obbligato e quindi seguirà un percorso molto simile attraversando l'Italia sperando di comunicare appunto una nuova visione di Pirandello e togliere un po' di patina polverosa a quest'autore che veramente risulta di una modernità di una contemporaneità assoluta grazie a presto